della mano e battiamo, voglio sentire la piogerellina, la piogerellina che batte e crea una piogerellina che tocca tutti noi, ci tocca nel cuore e ci chiede di aprirlo, spalancarlo a Cristo e poi più forte delle dita e mentre queste due dita battono e creano una tempesta d'amore per Maria e per Gesù e diventano più forti, più forti, qui a diventare un applauso forte Grazie per la visione